È una nuova offerta pensata per i cittadini che hanno difficoltà economiche, quindi stiamo pensando soprattutto agli anziani che non riescono a reggere il peso magari delle bollette invernali. Sappiamo che il gas è molto stagionalizzato sia nei consumi e quindi di conseguenza nei costi. Questa nuova bolletta consente di avere le bollette sostanzialmente tutte uguali, dello stesso importo, tranne l'ultima di conguaglio che se va bene sarà dello stesso importo anche quella e quindi consente di spalmare i propri costi nell'arco di tutto l'anno. Un grosso vantaggio per i cittadini in difficoltà. È una bolletta sostanzialmente a consumo costante, quindi i consumi previsti annui che vengono concordati con il cliente all'atto della stipula del contratto vengono ripartiti in sei fatture di uguale importo, quindi il consumo sostanzialmente viene spalmato nel tempo. C'è un conguaglio finale che riporta i consumi al valore normale. Speriamo di andare vicino al valore vero anche perché il consumo viene concordato col cliente, e quindi dovremo riuscire ad avvicinarci di molto ed avere anche la sesta bolletta, quella di conguaglio, di importo uguale alle precedenti.